Il nome nostro è I Due Maggi, che poi nel nostro privato siamo I Due Matti fondamentalmente, perché è un progetto molto complesso. Che offerta ci sarà in questi locali? Perché questo si tratta di un locale diffuso, così l'avete chiamato, perché? È un locale diffuso perché nel Vicolo sono presenti varie vetrate dove tu puoi entrare, dove c'era una brasseria, una rumeria, una vineria, una caffetteria, delle camere, una cucina particolarissima a vista dove puoi mangiare direttamente a contatto con la cuoca, o puoi mangiare dentro la brasserie, o fare un aperitivo in questi locali così storici. Questo locale significa tornare proprio nel centro storico. Io pensavo sempre di tornare in piazza dopo il terremoto, ritrovare l'atmosfera di un vicoletto, ricreare un aperitivo sul vicoletto, una colazione, un pranzetto sul piazza Duomo, cose che da città normali, noi io giro tantissimo, in Europa, in Italia, tutti hanno il centro storico, un vicolettino, tu puoi mangiare una cosetta su una piazza importante, sul Duomo e quant'altro. E questo vedevo che proprio mancava. Quindi da un paio d'anni abbiamo cominciato a prendere questa idea del vicolo, abbiamo trovato questo vicolo che è molto bello, che poi è pedonale, per mettere i tavolini fuori, per creare un po' l'atmosfera, quella che si ispirava prima del terremoto, che l'Aquilano è sempre stato attratto dal vicolo, oppure dal turista che potrà prendersi un drink su piazza Duomo. Noi gli facciamo tanti auguri a Marco Carusone per questa grande iniziativa. A chi la dedichiamo? La dedichiamo a tutte le persone che ci vogliono bene, ai miei genitori, a Giuseppe, il mio socio, che è il mio testimone di nozze, io sono il suo testimone di nozze, più che soci siamo due fratelli noi, tutte le persone che ci hanno creduto. Noi e tutte le persone che hanno lavorato queste settimane con noi, stressandole proprio all'inverosimile. Il nostro Falegname ha fatto le nottate qui con noi per rendere perfetto ogni minimo particolare, come potrete vedere se verrete al locale. Grazie.